In collaborazione con Antica Cantina di Canelli Ieri pomeriggio l'astigiano Roberto Gottardi di 45 anni si è incatenato al cancello di accesso del municipio di Asti. Disoccupato da tempo, sfrattato ed ora costretto a vivere in un container ha chiesto l'intervento del sindaco Giorgio Galvagno. Su un cartello che teneva in mano c'era scritto Sono Roberto Gottardi, chiedo un lavoro ed una casa. Il gesto di protesta ha richiamato con molta gente anche l'assessore all'assistenza a Pierfranco Verrua che ha cercato in vano di convincerlo ad esistere dalla clamorosa protesta. E' seguito un po' di parapiglia e solo con l'arrivo del sindaco il Gottardi si è liberato ed ha seguito Galvagno in ufficio. Poco dopo, convinto dalle promesse fattegli dal primo cittadino in scadenza, il contestatore è uscito ed ha accettato che gli fosse offerto un caffè al bar. Infortunio sul lavoro ieri pomeriggio alla ditta Drago SRL di Via Buronzo, qui ad Asti. Un giovane operaio, ventiquantrenne di Asti, mentre stava lavorando ad una pressa per la lavorazione degli infissi, si è procurato lo schiacciamento del dito indice medio della mano destra. Soccorso dai colleghi e immediatamente intervenuto il 118 per le prime cure. Sul posto si è recato anche il personale dello Spresal di Asti per le verifiche del caso. Ultime ore di passione prima del voto definitivo per la scelta del sindaco di Asti. C'è molto fermento per il ballottaggio fra il sindaco uscente Giorgio Galvagno, che al primo turno si è fermato al 29,49% dei consensi e il candidato del centro-sinistra, Fabrizio Brignolo, che ha avuto il 36,66% dei voti. Le alleanze sono ormai chiare. Attorno al Galvagno si è ricompattato il centro-destra con l'alleanza con Mariangela Cotto e Gianfranco Verrua, anche se sulla lista non ci sarà il simbolo della Lega Nord. Anche Alleanza Stigiana e Diego Zavattaro hanno fatto quadrato ed appoggeranno in ogni caso Galvagno. Sull'altro fronte Brignolo, dopo aver ottenuto il collegamento con l'Udc ed aver lanciato la nomina a vice sindaco, naturalmente in caso di vittoria del suo quasi coetaneo Davide Arri, in queste ultime ore, ha aperto un nuovo dialogo con la sinistra e raccolto una dichiarazione di Giovanni Pensa Bene, che recita, prima di alcuni distinguo, come nonostante tutto sia innegabile che le aperture programmatiche fatte da Brignolo siano significative e che consentiranno, sottolinea Pensa Bene, a molti miei elettori, che già avevano deciso di votarlo, di recarsi alle urne con meno patemi d'animo. La caccia all'ultimo voto è dunque molto aperta e da parte di entrambi gli schieramenti ci sono fino all'ultimo appuntamenti e occasioni di incontro. Gli incontri pubblici si concluderanno domani, venerdì, tutti in piazza. Brignolo sarà in piazza San Secondo, di fronte al municipio, dove alle 17 saranno attivate animazioni per i bambini, poi sarà distribuita una spaghettata ed un dolce. Quindi alle 22 ci sarà il discorso conclusivo di Fabrizio Brignolo con la partecipazione del sindaco di Torino, Piero Fassino. Galvagno chiuderà invece in piazza Libertà di fronte alla cassa di risparmio di asti. Anche in questo caso è prevista la distribuzione gratuita di piatti tipici a tutti i cittadini. Ricordiamo che si voterà domenica dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Quindi già nel tardo pomeriggio si dovrebbe sapere chi sarà il nuovo sindaco della città. E saranno migliaia i bambini che sabato pomeriggio allo stadio parteciperanno alla festa del calcio giovanile. Sfileranno tutte le società con gli allenatori di dirigenti. I ragazzi riceveranno gadget, dolci, caramelle e giochi. Anche gli spettatori potranno gustare gratuitamente i vini del territorio. Ma sentiamo il delegato provinciale della FIGC che organizza questo evento. Abbiamo iniziato così, con un'idea di fare una piccola attività extra campionato, fare un po' per questi bambini che sentivano la necessità e il piacere di essere posti sotto una luce diversa del campo sportivo, solo e tramite l'Ivo Unselmo pubblicità è venuta l'idea, è maturata questa idea che è poi stata svisserata dopo un anno di prova, diciamo così, migliorata in tutti i sensi, che ci fa molto piacere e ci mette anche in evidenza come Federazione Italiana Gioco Calcio e Delegazione di Asti per l'attività che facciamo con questo grosso numero di giocatori che ci sono. Un numero che tende ad aumentare ogni anno, ancorché le spese producono anche qualche danno, perché i tesseramenti costano, lo sai anche tu, l'attività calcistica costa. Comunque quest'anno abbiamo oltrepassato il numero di tesserati dell'anno scorso, soltanto di puro settore giovanile, pulcini, esordienti, scuola calcio e piccoli amici, siamo andati oltre i 2.500 tesserati. E per questa edizione è tutto, vi diamo appuntamento ai prossimi collegamenti, grazie.